Il caffè previene il melanoma, la bevanda energetica più amata, bloccherebbe la crescita delle cellule di quella che è la forma più aggressiva di tumore della pelle. Lo rivela uno studio italiano pubblicato sulla rivista scientifica Molecules, che attribuisce anche questa alle tante proprietà benefiche possedute dalla caffeina. Secondo gli scienziati dunque, un normale consumo giornaliero di 3-4 tazzine sarebbe un valido alleato della salute.